Il tempo finalmente non dovrebbe fare le vizie e dunque domani torna l'appuntamento con Bavino, uno degli eventi più apprezzati in arriva al Lago Maggiore, organizzato dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con le associazioni di Bavino, con il Comitato Locale della Croce Rossa ed i volontari della Protezione Civile. Format che piace e vince non si cambia, ma quest'anno una novità c'è. Dalle 10 alle 18 nel parco di Villa Fedora, sede dell'evento spazio al mercato contadino a chilometri zero, con la possibilità di fare acquisti direttamente dai produttori e dai coltivatori. Poi dalle 18 e 30 in alto i calici per degustazioni di vini speciali, appositamente selezionati per l'occasione ed abbinati ai prodotti locali del territorio, con un binomio perfetto all'insegna dell'enogastronomia di classe. Dalle 22 e 30 invece spazio al DJ set con After Bavinum, si potrà ballare fino all'una e mezza. I biglietti per l'ingresso a 30 euro con calice in omaggio sono disponibili sul sito della manifestazione e saranno acquistabili anche in aloco.